Una grande novità nel palinsesso di Cremona 1, a partire dal lunedì 11 settembre. In diretta, dal lunedì al venerdì alle ore 7, la Santa Messa da Santuario di Santa Maria del Fonte di Caravaggio. Da fine maggio il santuario, già da anni sede delle riunioni della Conferenza Episcopale Lombarda, è ufficialmente riconosciuto come il Santuario Regionale della Lombardia. E in tutta la regione, grazie al web e alla nostra rete di trasmissione, sarà possibile vedere, ascoltare e partecipare a distanza alla messa ogni giorno feriale. Il nostro palinsesso si arricchisce di una nuova, importante produzione in diretta. Mi sembra bella l'iniziativa perché credo che sia un'ottima opportunità il fatto che una persona, religiosa comunque, possa incominciare la giornata affidandosi al Signore, fin dalle 7 del mattino proprio. È significativo questo fatto perché dà un tono diverso alla giornata se la si incomincia in questo modo. In più anche il fatto che molte persone che non potranno spostarsi perché in casa di riposo, perché in casa bloccate o malate, possono approfittare di questa occasione. E se l'emittente produce, dà il suo prodotto per tutta la Lombardia e anche oltre, io penso che molta gente potrebbe approfittarne davvero. Un momento da ricordare per tutta la comunità lombarda e non solo. Per un anno, questo 2023, davvero importante per il Santuario di Caravaggio. L'evento più significativo è stato il fatto che il 26 maggio, giorno dell'apparizione della Madonna Caravaggio, i Vescovi Lombardi si sono ritrovati per proclamare il Santuario di Caravaggio Santuario della Lombardia. Questo fatto, come dire, ha confermato tutto ciò che si stava già realizzando perché molte diocesi e province della Lombardia convergono a Caravaggio per la verità, già da tempo, già da anni, da anni. Grazie. Grazie.